Venite! La merenda è pronta! Oh no! E ora che cosa facciamo? È meglio se andiamo! Diciamo che sei il mostro testa di cuscino! Certo, Tip! Ci cascano di sicuro! Che cos'ha intorno alla testa, Tip? Io sono un mostro testa di cuscino! Oh, certo! Ho capito! Perché non ti va di mangiare le carotine? Oh, ma che strano! Ti piacciono così tanto! Tip, me lo dici che sta succedendo? Mamma, io te lo dico! Ma tu mi prometti che non ti spaventi? Sì, te lo prometto! Ecco, io ho un dente che dondola perché... mi sto trasformando nel mostro sdentato! Oh, Tip! Non è niente di catastrofico! Stai solamente diventando grande! Proprio così! Perdi il tuo dentino da latte e al suo posto crescerà quello permanente come quelli che hanno i grandi, Tip! Ti senti meglio ora? Sì, molto meglio!